Allora, l'esperienza alla Sponsor Cup sta andando benissimo, siamo riusciti nei gironi ad arrivare primi. Quest'anno abbiamo fatto una sorta di campagna acquisti e come sempre speriamo di arrivare primi. La nostra arma segreta sulla divisa è la Strato Dax, l'oca indiana. Ci teniamo, ci piace, ci entusiasma e speriamo che questo nostro entusiasmo si veda e che possa anche essere il light motive del prossimo nostro anno di sponsorizzazione. A noi piace partecipare, divertirci, ma piace anche avere un obiettivo sfidante. Ci siamo dati da fare per cercare di crescere e acquisire aziende. Chiaramente l'unico obiettivo era avere dei giocatori per fare la Sponsor Cup del Veroboli. Abbiamo anche preso ferie per allenarci. Abbiamo agito sul mercato e siamo riusciti a costruire una grande squadra. La forza di ogni singolo giocatore è la squadra e la forza della squadra è ogni singolo giocatore. L'esperienza da Sponsor Cup è sempre incredibile. Le emozioni che regala sono indescrivibili. Grazie a VeroVolle per averlo organizzata. Bravi noi che abbiamo vinto, alla fine si può dire. Grazie. Grazie a VeroVolle. 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 Grazie a VeroVolle.